Salve amici, questo video ovviamente arriva dopo l'8x05, quindi diverse cose che dirò vanno in contrasto con quello che abbiamo visto nell'ultima puntata. Ero indeciso se pubblicare o no questa recensione, ma non volevo perdere tutte le ore di lavoro impiegate, quindi tutto questo per dirvi cosa. Non prendetevela per quello che dico, alcune analisi sono state totalmente inutile vedi Daenerys, ma è comunque un punto di vista che secondo me è stato condiviso da molti fino alla puntata successiva. Salve amici e benvenuti nella quarta recensione dell'ottava stagione di Game of Thrones. Sapete, quando lunedì sera mi sono messo a guardare la puntata, nonostante la delusione provata nel corso di tutta quanta la scorsa settimana, l'ho fatto con una strana consapevolezza che mi ha colpito molto in positivo. Ho passato le ultime settimane e gli ultimi mesi nella convinzione di aver già tutto in mente, tutto ben scritto, le morti importanti, gli avvenimenti, tutto segnato, poi è arrivata la 8x03 ed è stata tabula rasa. Convinto com'ero che queste 6 puntate finali sarebbero culminate nella sconfitta del Re della Notte, l'averlo ucciso nella terza puntata è stato come essere arrivati alla fine convinti che tutto fosse finito e che ci avessero detto Bene, vi è piaciuta questa serie? Ottimo! Adesso vi abbiamo fatto 3 nuove puntate di cui non sapete assolutamente niente. E' esattamente questo quello che ho sentito, quasi un senso di ignoto. E come ho detto prima, un po' alla volta ho cominciato ad essere neanche abbastanza contento, perché ho detto va bene, accantoniamo la questione degli estrani, ormai è successo così, non ci si può far niente. Vediamo adesso come hanno intenzione di sviluppare questo finale di serie. E poi ho visto la nuova puntata. Questa infatti non è stata una recensione facile da scrivere, perché gran parte di quello che avviene è tutta quanta trama politica e trama psicologica dei personaggi, quindi sono dovuto andare a leggere dentro ognuno di loro e cercare di contestualizzarli all'interno di quello che sta succedendo, prima di dare un giudizio su tutto quello che è successo. Il che molto probabilmente è stato anche un lavoro abbastanza inutile, perché D&D stanno cercando di appiattire e stereotipare i personaggi il più possibile. Comunque la puntata inizia come era giusto che iniziasse. Durante la lunga notte infatti centinaia, migliaia di uomini e donne hanno combattuto e sono morti per cercare di far sopravvivere la vita. Alcuni sono morti in modo anonimo, altri sono morti in modo eroico. Daenerys piange sul corpo di Jorah, dando l'ultimo addio al suo più vecchio e fidato amico, chinandosi e sussurrandogli qualcosa che nessuno sente, nemmeno noi, e a me piace pensare che fosse un grazie, un grazie per questo vecchio cavaliere che ha fatto di tutto per lei. Sansa invece piange Theon, riconoscendolo silenziosamente come membro della famiglia, mettendogli il metalupo degli Stark sul petto. Devo dire però che mi è dispiaciuta che questa cosa non fosse successa prima, perché per Theon essere apprezzato ed essere riconosciuto è sempre stata una cosa molto importante. Si è sempre trovato nel corso della sua vita nella condizione di dover scegliere se essere uno Stark o essere un Greyjoy, arrivando perfino a rinnegare la sua parte da lupo pur di compiacere il padre che l'ha sempre disprezzato, fin poi ad abbandonarlo addirittura. Jon nella scorsa stagione l'ha fatto, l'ha riconosciuto come Stark, dandogli infine la forza per risollevarsi ed andare a salvare la sorella Yara, e anche per decidere di andare a combattere con gli Stark durante questa guerra. Ricevere questo segno di approvazione da Sansa però sarebbe stata una cosa molto più forte, perché lei fin da bambina si è sempre tenuta in disparte e distaccata da questi estranei all'interno della famiglia. Per esempio con Jon, dopo aver saputo che effettivamente non era loro fratello ma era un fratello bastardo, l'ha sempre chiamato fratellastro, proprio per segnare questa distinzione tra loro e gli altri. Comunque la coronazione finale dell'arco di Theon avviene proprio con questo gesto di Sansa, e nonostante tutto è stato davvero molto toccante e molto bello da vedere. Davanti alle numerose pire funerarie, immobili, tutti quanti sopravvissuti danno quest'ultimo saluto a coloro che, come dice Jon nel suo discorso, hanno fatto da scudo e hanno donato la loro vita per proteggere i domini degli uomini. Stacco di scena e siamo tutti dentro il castello a festeggiare. Ora, al contrario di quanto possono dire molte persone, io ho apprezzato molto queste scene di festa, perché tralasciando il come io e molti altri abbiamo vissuto la scorsa puntata, e guardando queste scene in modo obiettivo nel contesto di una storia in cui quello che è successo è successo ed è stato terribile, il fatto di essere sopravvissuti è motivo di molti festeggiamenti. E ho trovato molto coerente questa festa liberatoria in cui tutti si lasciano andare perché sanno di essere vivi e sanno di essere al sicuro. Come nella 8x02 c'è stato un momento in cui tutti si sono lasciati andare in un altro tipo di modo, in un altro tipo di contesto, perché lì pensavano di non sopravvivere alla notte, qui invece si lasciano andare in modo molto festivo e in modo molto goliardico, perché sanno che sono vivi e non hanno voglia di pensare nient'altro. Non esiste il re della notte, non esiste la guerra, non esiste nemmeno Sarsi, questa è stata una scena che mi è piaciuta davvero tanto, come poi d'altronde mi è piaciuto anche quello che succede dopo tra Daenerys e Gendry. Qualche settimana fa, assieme a Vittorio e Michela di Stannisarmi, abbiamo parlato e ragionato sul fatto che nella serie Gendry fosse effettivamente l'ultimo rimasto in vita con sangue Baratheon, e che molto probabilmente Capotempesta sarebbe andato a lui. E così è successo. In mezzo alla sala festeggiante Daenerys chiama Gendry e dopo aver ripetuto per l'ennesima volta che Robert ha ucciso la sua famiglia e ha cercato di uccidere anche lei, lo legittima Gendry Baratheon, figlio di Robert ed erede di Capotempesta. E devo dire che mi è piaciuto come è stato fatto, perché so che Daenerys non l'ha fatto in totale disinteresse o perché è una persona magnanima, ma per assicurarsi l'appoggio delle terre della tempesta, come poi dice a Tyrion, ma è stata una bella mossa, pensata anche totalmente da lei. Figo! Anche se, e questo lo considero un buco di trama, nessuno ha valutato che legittimare Gendry potesse anche legittimare una sua pretesa al trono di spade, in quanto ora a tutti gli effetti figlio di Robert Baratheon. Perché, correggetemi se sbaglio, Cersei è salita al trono perché è stata regina di re Robert e regina madre degli ultimi due sovrani, ma teoricamente la casata regnante dovrebbe essere ancora quella Baratheon, no? Vabbè, non indagando oltre non ci faremo ulteriore male. Il fatto che Davos poi per primo si alzi e brindi a Gendry Baratheon ha risvegliato vecchi ricordi, perché la sua storia è stata strettamente legata al destino sia della casata Baratheon che a quello di Gendry. E il fatto che sia stato il primo ad alzarsi fa capire che, nonostante stia servendo un nuovo signore, non ha dimenticato le sue origini e a chi deve tutto quello che ha. Thank you Davos, you're a good man. La festa continua nei modi più disparati. C'è chi decide di bere e mangiare tenendo il broncio, chi fa giochi alcolici, e chi come il nostro fiero Podrick decide di darsi alla pazza gioia. Io adoro questo ragazzo. Durante il famoso gioco alcolico di Tyrion, Brienne si sente un po' punta nel vivo quando lui afferma che lei è vergine. Tormund arriva per l'ennesima volta a riprovarci e quando lei se ne va, Jaime lo blocca e la segue. Povero Tormund, ci siamo passati tutti. Passerà. E infatti da lì a poco trova la compagnia di un'altra ragazza che proprio gli si butta addosso mentre la sua amica viene brutalmente rifiutata dal mastino. Beh, ecco, c'è anche di meglio. Piccola parentesi su ste ragazze, ma è possibile che queste tizie che portano da bere siano sempre pronte a fare cose con chiunque? Perché o sono delle prostitute che sono state messe lì a servire ai tavoli per unire l'utero al dilettevole, oppure si è diffusa la zoccolaggine a grande inverno. Insomma, signorine, un po' di contegno. E in mezzo a tutto ciò accadono tre cose su cui vorrei fare un focus. La prima è il discorso tra il mastino e Sansa. Lui le dice che ha saputo tutto quello che le è successo e tutto quello che ha dovuto passare e che se quella volta durante la battaglia delle Acque Nere nella seconda stagione avesse scelto di andare con lui e di scappare da Prodo del Re, tutto quello che è successo si sarebbe potuto evitare. Joffrey, Baelish, Ramsey. Ma Sansa risponde che tutto quello che ha passato l'ha aiutata a diventare quello che è ora. Una donna forte, indipendente, capace di muoversi circondata dagli squali e anzi essere addirittura lei una di loro. Ma Sansa torneremo dopo. La seconda cosa importante è il discorso tra Tyrion e Davos. Discorso che inizia da Melisandre. Infatti Davos racconta a Tyrion che le aveva giurato che la prossima volta che si sarebbero visti l'avrebbe uccisa ma che non ha avuto l'occasione di farlo perché lei si è tolta la vita oppure il suo Dio gliel'ha tolta. Il Signore della Luce. Loro sono state pedine all'interno del suo gioco. Hanno combattuto, sono morti, hanno vinto la sua guerra e poi così come è apparso è scomparso nel nulla. Senza lasciare un segno, senza lasciare una benedizione o una sorta di rivelazione sul suo obiettivo. Il nulla assoluto. Credo che sia la domanda che tutti quelli a cui non è piaciuto il finale dell'Auto x03 si siano posti. Che senso ha avuto tutto questo? L'averlo nominato così nella serie adesso è molto strano perché comunque per quanto io brami un colpo di scena a due puntate dalla fine svilupparlo in modo decente è praticamente impossibile. A questo punto con grande rammarico penso che abbiano deciso di accantonare tutta quanta la questione strana e tenerla da parte per le serie prequel. Proprio un gran peccato. Andando al tavolo principale il terzo e ultimo focus di questa festa. Infatti Tormund assieme a Davos circondato dai bruti sta clamando ed esaltando Jon per il suo coraggio, per la sua dedizione alla guerra per averli salvati e aggiunge anche che l'aver cavalcato un drago in battaglia fa di lui un folle oppure un re. Frase che come un pugno in faccia arriva anche alle orecchie di Daenerys. Guarda Jon circondato dai bruti Tyrion che per la prima volta dopo la quarta stagione è felice e spensierato in compagnia di Jaime e si rende conto per la prima volta di essere sola. E come dissi nella recensione dell'8x02 si accorge anche che in quel mondo lei non c'entra niente. Perché è questo quello che sta succedendo nella testa di Daenerys adesso. Lei non sta impazzendo, non sta diventando una tiranna. È solamente un essere umano che è stata portata al limite da situazioni che noi non possiamo neanche immaginarci. Tutto quello che è stata nel corso del tempo una volta arrivato a Westeros l'ha perso e come ha detto Tyrion forse lei doveva aspirare a qualcosa di più. Forse il continente occidentale non era il posto in cui era destinata che tornasse ma era Essos la sua casa il posto in cui stava già facendo la differenza. Lei si è unita ad una guerra in cui ha messo in gioco più di chiunque altro ha perso più di chiunque altro e nonostante tutto ciò non è riuscita a fare un passo in più in avanti verso quel nord che tanto la detesta. Ha perso Giora che è stato il suo consigliere più fidato e adesso lei si ritrova da sola circondata da serpi di cui non si fida perché anche se è vero che ha dato a Tyrion il ruolo di primo cavaliere e ha voluto dare a Varys un'altra possibilità lei comunque di loro non si fida pienamente e si ritrova circondata da un mondo di squali in cui lei non sa stare a galla se non sfruttando l'ultima cosa che le rimane cioè l'aggressività. In tutto ciò anche l'ultima grande certezza che aveva le viene strappata via l'ultima cosa a cui può aggrapparsi per non dover ammettere che tutto ciò che ha fatto e tutto ciò che ha perso non è servito a nulla il trono di spade un obiettivo a cui sta puntando secondo me ormai non perché voglia davvero diventare regina ma perché se no non avrebbe nient'altro e anche se dubito succederà mai nel momento in cui si siederà sul trono il problema sarà un altro quando si renderà conto che di fatto quella sedia non ha nessun significato e tutto questo viene fuori in una scena successiva in cui dice a Jon che ha visto il modo in cui veniva guardato lo stesso modo in cui lei è stata guardata ma mai lì mai dopo aver attraversato il mare stretto e lo supplica davvero lì crolla e lo supplica di non rivelare la sua identità proprio per non portarle via quell'ultima cosa che le resta Daenerys non è pazza Daenerys è disperata il che potrebbe portarla sia alla pazzia ma non per il motivo che tutti credono non è perché lei è una Targaryen e quindi di conseguenza tutti i Targaryen sono pazzi ma perché come mi ha fatto notare una mia amica quando hai una sola cosa in testa un solo obiettivo in cui stai riversando tutta te stessa e lo perdi a quel punto cedi e fai un crollo psicotico ma una pazzia provocata dalla disperazione non dalla genetica davvero non so se riesco a spiegarmi come vorrei e comunque penso che purtroppo dietro tutta quanta questa faccenda di Daenerys non ci sia uno studio del personaggio del genere ma quasi sicuramente D&D che stanno cercando di chiudere più in fretta possibile tutte quante le varie storie e una Daenerys impazzita sarebbe stata più commerciale il che tra l'altro mi sta facendo incazzare tantissimo perché sono andati a prendere un personaggio che ho sempre ritenuto stupendo e pezzettino dopo pezzettino sono andati a rimuovere tutti i tasselli fino a far rimanere di lei solamente il peggio senza tra l'altro un vero motivo scatenante John ancora una volta si inginocchia a lei dicendo che lei è la sua regina e che lui non vuole il trono ma che comunque in ogni caso deve dire a Sansa e a Daria la verità perché loro sono la sua famiglia mentre tutto questo succede in un'altra stanza del castello Jamie va a trovare Brienne e i due finiscono a letto assieme cosa che personalmente devo dire la verità non ho apprezzato moltissimo ma perché non sono mai stato un grande fan della coppia perché ho sempre pensato che tra Jamie e Brienne ci fosse solo un grande rispetto lo stesso che si può trovare tra due normalissimi cavalieri e un mix tra affetto e odio pensavo che Jamie con il discorso che aveva fatto a Bron cioè quello di morire tra le braccia della donna che ama si riferisse a Cersei perché fin da ragazzo è sempre stata l'unica donna che ha mai amato ma il fatto che sia successo comunque va bene lo accetto perché è uno sviluppo sensato del loro rapporto e non è campato in aria e buttato lì come sarebbe stata la stessa situazione però tra lei e Tormund fuori dal castello la festa continua e Gendry va a cercare aria che in modo totalmente sicuro si sta allenando con arco in frecce in un posto dove chiunque avrebbe potuto passare e beccarsene una in testa ma pfff fossero questi i problemi Gendry le va incontro e giustamente sovrecitato per tutto quello che è successo le dice che non è più Gendry Rivers Gendry Rivers ciao Sandy Rivers usa il nome completo fa molto più scena vedrai no caro Gendry tu non eri un Rivers nemmeno prima di essere legittimato perché a questo punto lo so che tu io e tutti quanti quelli che hanno visto la serie sono molto più informati dei produttori sulle regole di Westeros perché è vero che nella serie non viene detto e se non avete letto i libri come d'altronde non li hanno letti D&D adesso ve lo spiego io se viene riconosciuto un figlio bastardo di un padre nobile acquista un cognome caratteristico diverso per ogni regione in base a dove nasce questo privilegio lo possono avere solamente i figli bastardi dei nobili quelli del popolo no l'esempio più facile da fare è Jon Snow Snow proprio come anche Ramsay Snow è il cognome che viene dato ai bastardi del nord Sand per esempio è il cognome dei bastardi di Dorne Rivers visto che viene nominato da Gendry è il cognome che viene dato ai bastardi delle terre dei fiumi luogo che non c'entra assolutamente niente con la nascita di Gendry lui che tra l'altro non è mai stato riconosciuto da Re Robert se fosse stato riconosciuto avrebbe comunque avuto il cognome Waters Waters è il cognome che viene dato ai bastardi delle terre della corona questo è un dettaglio che tra l'altro poteva essere tranquillamente eliminato dal dialogo e che ci fa notare quanta poca attenzione ci sia non alle tazze di Starbucks ma proprio alla lord dei libri di riferimento comunque Gendry dice ad Aria che adesso che è diventato lord di Capotempesta la vuole al suo fianco perché la ama e vuole che diventi sua moglie e che diventi la sua lady eeeh Gendry no non si fa così già in una qualsiasi situazione con una qualsiasi ragazza avresti ricevuto un plateale rifiuto con Aria è ancora peggio perché ha sempre detto che non vuole diventare una lady e non vuole fare una vita di corte ho letto molte persone dire oh povero Gendry Aria senza cuore ma ragazzi Aria è stata perfettamente in linea con il suo personaggio e anche quello sguardo che fa quando Gendry le fa la proposta non è uno sguardo di dubbio o di confusione è uno sguardo di tristezza perché sa che dovrà spezzargli il cuore per come la vedo io le possibilità per il loro futuro sono tre la prima è che Gendry diventi lord di Capotempesta e che Aria prosegue quindi la sua vita da sola la seconda è che Gendry rifiuti il suo ruolo perché ama davvero Aria e che quindi i due proseguono la loro vita insieme in qualche altro modo più avventuroso la terza è che si risolva tutta quanta la questione alla radice e che alla fine uno dei due muoia quel che è certo è che non esiste in nessun modo uno scenario in cui Aria si ritroverà a fare la led di un castello proprio perché non è da lei e il fatto che Gendry le faccia questa proposta denota che lui non la conosce affatto e che è attirato da lei solamente perché è diversa e perché gli piace fisicamente il giorno dopo viene tenuto un concilio di guerra in cui veniamo a sapere che tutti uomini del nord uomini della valle immacolati e perfino Dothraki che penso che tutti pensassimo fossero stati sterminati invece sono stati dimezzati viene anche detto però che Cersei grazie alla flotta di Euron ha acquisito la compagnia dorata e che quindi la superiorità numerica è stata bilanciata veniamo a sapere inoltre che Yara ha riconquistato le isole di ferro e che Dorne è salito al potere un altro principe che mantenendo il giuramento di Ellaria è pronto ad aiutare Daenerys il piano è semplice Jon Davos gli uomini del nord gli uomini della valle e gran parte degli immacolati di Dothraki viaggeranno a piedi fino ad approdo del re mentre Daenerys con una piccola delegazione andrà a roccia del drago Sansa però giustamente fa notare che gli uomini sono stanchi che la guerra contro i morti è finita tipo due giorni prima e che forse hanno tutti quanti bisogno di riposarsi e siccome a Daenerys viene l'orticaria ogni volta che sente parlare Sansa quanto ti capisco sorella nonostante gli argomenti beh siano estremamente sensati decide di non ascoltarla anzi dice che lei è salita al nord rischiando tutto per combattere al loro fianco e che adesso che è arrivato il momento di rispettare il loro giuramento si stanno tirando indietro Jon guardando Sansa proprio per rimarcare quello che ha detto a Daenerys la sera prima si schiera apertamente con lei dicendo che gli uomini del nord avrebbero rispettato il giuramento e combattuto al fianco della legittima regina dei sette regni grande stupido mi rendo conto che non poteva andare contro Daenerys pubblicamente ma avrebbe potuto prenderla da parte e farla ragionare in privato perché ripeto le motivazioni di Sansa sono sensate l'incontro viene aggiornato e all'uscita Jon viene placato da Sansa a Arya e Bran che mai a questo punto credo che se lo stiano portando dietro solamente come mascotte e viene portato nel parco degli dèi infatti perché mai chiudersi in una stanza e parlare in privato quando puoi farlo in mezzo a un parco con tutti che sentono Jon dice che ha fatto un giuramento e che deve rispettarlo perché ha votato se stesso al nord Arya e Sansa dicono che loro non si fidano di Daenerys e che in poche parole adesso che la guerra è finita non hanno più bisogno né del suo esercito né dei suoi draghi e che siccome sono gli ultimi Stark e gli ultimi figli di Ned devono rimanere uniti perché sono una famiglia Jon le guarda e dice Sniiii guarda Bran Bran guarda Jon e gli dice è una tua scelta eccoci ho detto siamo arrivati nel momento topico di tutta quanta la questione Jon è un Targaryen Jon fa giurare le sorelle in modo da assicurarsi che non lo dicano a nessuno scusate ma fa ridere sta cosa Arya fidandosi del fratello giura all'istante e Sansa dopo un attimo di titubanza giura anche lei e Jon inizia tipo a dire è perché dovete sapere Bran diglielo tu Bran guarda Jon Jon guarda Bran stacco di scena e vaffanculo la scena viene interrotta la scena viene interrotta in maniera atroce come cacchio fai come cacchio fai ad introdurre una scena del genere una scena bomba del genere e poi farla finire in questo modo non è giusto non è davvero giusto fare una cosa del genere perché come abbiamo visto la reazione di Jon come abbiamo visto la reazione di Daenerys dovevamo vedere la reazione delle ultime due persone importanti che dovevano sapere questa cosa ragazzi scusate sto perdendo la calma ma questa cosa è davvero impossibile a me interessava principalmente vedere la reazione di Arya che si è ritrovata in questo modo tra virgolette strappata da questo legame familiare che l'univa al fratello che ha sempre adorato hanno mostrato la sua reazione post notizia quando la vediamo partire con il mastino verso Prodo del Re ma non hanno mostrato la sua reazione nel momento in cui sentiva ed elaborava le parole di Bran e non la prende benissimo nemmeno Sansa perché se Arya decide di andarsene e ritornare in coppia con il mastino lei invece decide di iniziare a magheggiare a livello politico ricominciando a tutti gli effetti il gioco del trono che nel corso delle ultime stagioni si era del tutto arrestato grazie Sansa per averci dato questo nuovo risvolto di trama ma sei comunque una stronza e io sono contentissimo perché per quanto Sansa in questa stagione sia il personaggio che si è comportato in modo più coerente e con più logica di tutti quanti io aspettavo il momento in cui combinava la sua e finalmente il momento è arrivato perché così posso cominciare ad esternare parte di quell'odio che conservavo per lei oh porca miseria è come ritrovarsi con un vecchio amico Sansa ciao come va la famiglia tutto bene no fantastico e comunque grandissima perché ci ha dato la possibilità di creare il nuovo meme in una scala da Sansa a Ned Stark quanto sai mantenere un segreto mamma mia che belli meme che sta creando questa stagione tornando seri Sansa è naturalmente preoccupata per il destino degli uomini del nord che stanno andando a sud con Jon preoccupazione più che legittima per la lady di grande inverno e io sì sto sinceramente iniziando a sperare che alla fine di tutto quanto sia lei a prendere in mano il nord diventando nell'effettivo regina del nord perché penso che alla fine il nord diventerà una cosa a parte riuscirà ad avere un'indipendenza perché questa cosa è stata mostrata ed è stata voluta fin dalla prima stagione infatti ricordiamoci che nella 1x10 Chirob viene nominato re del nord e penso che allo stato attuale delle cose Sansa sarebbe una perfetta regina del nord lei che nell'ultimo periodo più di chiunque altro si è preoccupata del destino di quella terra perché Jon sì è stato un grande ha salvato il nord l'ha riunito ma il suo destino non era quello di governare il suo destino era quello di combattere gli estranei e si è assicurato che tutto quanto Westeros sapesse della minaccia Sansa invece no lei ha sempre voluto diventare regina e penso che sarà destinato ad esserlo ecco l'ho detto Sansa mi sta in culo però mi piacerebbe diventasse regina del nord tutto questo partendo dal fatto che Sansa ha pensato quale persona ora come ora migliore di Jon alla guida dei sette regni e quale altra persona a parte Jon alla guida dei sette regni mi avrebbe dato l'indipendenza del nord iniziamo quindi a magheggiare Tyrion infatti non è più tanto sicuro di Daenerys perché la sta vedendo instabile Varys non è tanto più sicuro di Daenerys perché la sta vedendo cedere ma al contrario di Varys Tyrion è una persona buona è una persona estremamente leale che si rende conto che la parte buona di Daenerys ancora c'è nascosta sotto strati di lutti fallimenti delusioni e aggressività Varys invece ha un ragionamento molto radicale e molto imprevedibile e preferisce avere una persona manipolabile sul trono al contrario di Daenerys che adesso sta diventando molto indipendente ed è questo il motivo per cui saputa la vera identità di Jon ha subito pensato a come metterlo sul trono e far uscire di scena Daenerys Varys io penso che tu a tutti gli effetti stia andando in bocca al drago e non riesco a capire come un uomo intelligente come te non possa rendersene conto poi però penso a come è finita la storyline di dito corto e mi faccio molte meno domande una domanda che ci siamo fatti in tanti è quella sul destino dei bruti perché mai avrebbero dovuto combattere una guerra che non è loro per una serie di ferro che non ha mai significato niente oltre la barriera e la risposta ce l'ha da Tormund quando vedendo Jon partire annuncia che lui e il popolo libero sarebbero tornati a casa oltre la barriera dove è il loro posto e dove è anche il suo posto un'affermazione di una certa rilevanza se ci pensate perché Tormund ha offerto a Jon esattamente quello che lui vorrebbe un qualcosa che però in questo momento non può accettare Jon appartiene al vero Nord lui non vuole essere re non vuole il trono di spade non vuole combattere per il trono di spade si è ritrovato in una spirale da cui potrà uscire solamente vincendo quest'ultima guerra sapete tra tutti quanti i finali possibili per Jon quello di lui che se ne va alla fine oltre la barriera e finisce i suoi giorni tra i brutti è quello probabilmente più leto possibile e sto iniziando a sperare che succeda questo anche nella prima puntata quando assieme a Daenerys guarda quella caverna e dice che vorrebbe entrarci ed invecchiare lì è vero è stato un grande rimando a Ygrid ma io l'ho anche presa come un suo desiderio di pace e libertà la libertà dal vincolo di lord di re e dai re dei sette regni ora però affrontiamo la questione che mi ha fatto davvero incazzare tanto perché se è vero che Jon appartiene al vero nord è anche vero che Spettro appartiene al vero nord e Jon ha fatto un atto coraggioso affidandolo a Tormund e risparmiargli questa guerra a sud una scena che devo dire che nella mia mente stupida ho trovato coraggiosa e mi ha colpito anche se so che nella testa degli sceneggiatori in quel momento c'era solamente il trovare un modo per liberarsi di Spettro perché non potevano permettersi di animarlo con il budget che avevano in questa o nelle prossime puntate Spettro ha combattuto valorosamente nella lunga notte ha rischiato tanto ma è sopravvissuto senza un orecchio con ferite evidenti ed è un classico cane bastonato e io quando si parla di cani ho ancora una ferita piuttosto profonda aperta perché meno di un anno fa è morto il mio Leo e sono molto sensibile a queste scene a queste cose perché mi fanno tornare in mente lui mi fanno tornare in mente tanti ricordi e mi ha fatto terribilmente male il modo in cui hanno trattato Spettro non sto parlando del modo fisico in cui è stato ridotto sto parlando di come l'hanno trattato alla fine del suo ciclo perché a meno che John effettivamente non sopravviva e non decida di andare a vivere con i bruti alla fine di tutto dubito che ci saranno altre scene in cui verrà mostrato Spettro quello che mi ha fatto terribilmente male è che John dopo aver fatto questa scelta coraggiosa di affidarlo a Tormod perché sappiamo che non è così ma è l'unico modo in cui io posso affrontare la cosa è che non ci sia stata una scena finale tra i due io il giorno in cui sentivo che mi sarei dovuto separare da Leo non mi sono mai staccato da lui aggrappandomi a quei pochi ultimi momenti che avrei potuto passarti assieme e il fatto che John non l'abbia fatto che abbia abbandonato in questo modo quell'amico che è sempre stato al suo fianco mi ha fatto terribilmente male qui non c'entra il dissociarci dal suo essere Stark dal fatto di abbracciare la sua natura Targaryen no non c'è nessun simbolismo dietro a questo questo doveva essere uno dei momenti più importanti per la storia di John in questa stagione il suo rincontrarsi con Spettro il dirsi addio il ringraziarsi il salutarsi per sempre e hanno deciso di non farlo interagire in nessun modo Spettro che lo guarda andare verso il cavallo pronto a seguirlo fino alla morte John che lo guarda e non lo saluta nemmeno lasciando questa povera creatura nella delusione più totale e anche in questo caso davvero non riesco a non riesco ad immaginare come sia possibile che in fase di scrittura di registrazione in fase di editing nessuno si sia opposto nessuno si sia impuntato nel fatto che almeno adesso nella parte finale della loro storia dovevano avere un'interazione di qualche tipo Spettro è sempre stato il migliore amico di John hanno avuto un rapporto che supera qualsiasi cosa io adesso voglio andare a leggervi un pezzo del libro che ha postato Michela su Stannissarmi qualche giorno fa e che mostra davvero il rapporto tra Spettro e John D'un tratto ebbe fame aveva bisogno di cibo un cervo rosso avvolto dall'odore della paura oppure un alce gigante orgoglioso e pronto alla sfida aveva bisogno di uccidere di riempirsi le viscere di carne fresca di sangue ancora caldo la sua bocca si riempì di bava gli ci volle un lungo momento per rendersi conto di quello che stava accadendo ma alla fine John capì balzò in piedi si voltò verso la foresta stregata Spettro la forma bianca emerse dalle tenebre verdi il respiro che gli usciva dalle fauci si condensava nell'aria gelida in ritmici fiotti lividi Spettro il metalupo scattò di corsa verso di lui era più magro di come John se lo ricordava ma anche più grosso l'unico suono ad accompagnare la sua avanzata fu il debole scricchiolio delle foglie morte sotto le sue zampe quando raggiunse John gli saltò addosso si rotolarono nell'arba scura l'uomo in nero e la belva albina tra le lunghe ombre mentre le stelle cominciavano a brillare sopra di loro per gli dèi lupo dove sei stato disse John quando Spettro ebbe smesso di azzannarlo all'avambraccio credevo che anche tu fossi morto come Rob Ygritte e tutti gli altri non sono più riuscito a sentirti da quando ho scalato la barriera non riuscivo a vederti neanche in sogno il metalupo non aveva risposte lecò il viso di John con la sua lingua umida e rubida come una raspa gli occhi di Spettro intercettarono gli ultimi raggi del sole scintillando come due enormi stelle del colore del sangue occhi rossi notò John ma diversi da quelli di Melisandre gli occhi di Spettro erano come quelli degli alberi diga occhi rossi bocca rossa pelliccia bianca sangue e ossa come un albero del cuore Spettro tu appartieni agli antichi dèi e di tutti i metalupi degli Stark Spettro era l'unico con il pelo bianco avevano trovato sei cuccioli lui e Rob nella neve di fine estate cinque erano grigi neri e marroni per i cinque ragazzi Stark l'ultimo era bianco come snow neve a quel punto John ebbe la sua risposta e la risposta a cui John fa riferimento in questa parte di libro è quella che deve dare a Stannis sulla sua legittimazione come Stark e davvero vi rinnovo l'invito che avevo fatto l'altra sera in live leggetevi i libri perché qui c'è la vera storia qui c'è la magia e davanti a scene di sceneggiatura così insensibili e così terribili qui c'è la verità Daenerys e il suo seguito arrivano a Roccia del Drago lei a cavallo di Drogon e Regal al suo fianco malandato a causa dello scontro con Viserion ora la situazione è questa Daenerys e i draghi sono in volo ad almeno un centinaio di metri sopra il livello dell'acqua quindi con la possibilità di vedere qualsiasi cosa in mare aperto per chilometri e chilometri e quindi proprio per questo quello che succede dopo è una delle cose più stupide che sarebbero mai potuto succedere e questa non è una cosa opinabile Rhaegar viene colpito da tre dardi tre dardi tre centri perfetti e il drago naturalmente ci saluta per sempre cadendo in acqua senza vita un quarto arpione passa a pochi centimetri da Daenerys che a quel punto si gira e da dietro una cacchio di roccia vede uscire una decida di lavi dei greggioi questa cosa è incommentabile prima di tutto è impossibile colpire con tre arpioni su tre un drago in volo sparanti da più di un chilometro di distanza da una nave che ondeggia seconda cosa sti arpioni vengono sparati da dietro una montagna quindi due sono le cose o passano attraverso la roccia oppure gli arpioni curvano come i proiettili di Wanted senza considerare che Daenerys è rimasta in volo per tutto quanto il viaggio e non si è accorta della flotta di Euron perché parola degli sceneggiatori si era dimenticata che esistesse questi dementi sono arrivati a prenderci per il culo in questo modo considerandoci degli stupidi se pensano che noi riusciamo ad accettare una scusa del genere quando poche scene prima durante il consiglio di guerra hanno detto espressamente che la compagnia dorata era arrivata grazie alla flotta di Euron davvero una cosa schifosa ragazzi scusatemi se in questo video ho perso le staffe più di una volta ma questo è davvero incommentabile io non sto sindacando sulla morte di Regal perché mi rendo conto che la guerra doveva essere equilibrata e non sono nemmeno incazzato perché è morto un drago sono incazzato perché è morto in modo stupido vi metto davanti a questo scenario Daenerys in volo assieme a Regal e Drogon che si accorge della flotta di Euron e inizia una guerra navale gli arpioni volano volano palle di cannoni si distruggono navi e durante lo scontro Daenerys va ad incendiare le navi assieme ai draghi durante questa cosa gli arpioni colpiscono Regal che muore tutto quanto si risolve nel medesimo modo con Daenerys che chiama la ritirata il drago viene ucciso Missande viene rapita e qual è l'unica differenza tra tutto quanto è che tutta quanta la questione è verosimile tutto quanto segue una certa logica e non è stupido io non chiedo lieto fine non chiedo nemmeno che tutto si risolva come io vorrei che si risolvesse io chiedo coerenza nelle cose tutto questo poi porta ad un incontro tra Daenerys e Cersei fuori dalle mura di Aprodo del Re che per l'occasione ha anche cambiato paesaggio esterno guarda lasciamo perdere passiamo oltre Daenerys si presenta davanti alle mura con una delegazione di Immacolati Tyrion Varys Verme Grigio e Drogon che sta molto più indietro di loro adesso possiamo ragionare su questa cosa? ti hanno appena seccato un altro drago e tu cosa fai porti l'ultimo che ti rimane a portata delle baliste che sono messe tutte quante lungo le mura di Aprodo del Re oltre al fatto che le mura sono piene di arcierie che loro sono completamente vulnerabili in campo aperto ragazzi seriamente in tutto questo Sarsic ci ha sempre dato prova di essere una donna estremamente impulsiva e determinata ha la possibilità di tempestarle di arpioni e frecce facendo finire la guerra e risolvendo tutti i suoi problemi ma proprio oggi decide di risolvere tutto facendo politica e dichiarando guerra con la decapitazione di Miss Sunday certo se Sarsic avesse fatto quello che tutti quanti noi avremmo fatto al suo posto la serie sarebbe finita con due episodi di anticipo ma stanno utilizzando tutti i pretesti più facili e ovviamente più stupidi per far arrivare la serie al punto in cui vogliono farla arrivare e non va bene l'ho detto prima coerenza e il plot armor non è coerenza il plot armor è un espediente becero per far sopravvivere i personaggi che ti servono che arrivino fino alla fine e sapete qual è il metodo migliore per non far morire i personaggi che ti servono semplicemente non mettendoli nelle condizioni di non poter sopravvivere vi ricordate i tempi in cui nessuno era il sicuro in cui la frase Valar Morghul sarà come un pendolo sopra le teste di tutti e che chiunque poteva morire bastava una parola sbagliata o anche un errore fatto in buona fede e puff è rifinito Game of Thrones ci ha insegnato fin dal principio che noi non sappiamo niente e che come lei ci dà quello che vuole allo stesso tempo ci toglie quello che vuole D&D nelle ultime stagioni hanno cercato di replicare lo stile di Martin uno stile calcolato uno stile attento in cui tutto era scritto in un modo e in un certo contesto perché tutto aveva una ragione in un mondo in cui le coincidenze non esistono un mondo governato dalle profezie fatte dagli dèi e fatte dagli uomini in cui l'uomo più furbo può rivelarsi una pedina nelle mani di qualcuno di ancora più astuto e che se una cosa deve succedere succede non importa che tu sia un re che tu sia un cavaliere o un contadino se è arrivata la tua ora è arrivata qualcosa che nella serie è andato via via perdendosi negli ultimi anni arrivando perfino ad un punto in cui un personaggio spacciato può salvarsi grazie a un cambio di scena e io spero per le prossime puntate perché davvero a costo di farmi del male sono ancora pronto a scommettere ultima cosa prima di salutarci è la questione Jaime che quando viene a scoprire che Sars è riuscita ad uccidere un drago di Daenerys e che ormai la guerra è alle porte decide di partire nel bel mezzo della notte dicendo cose terribili ebrienne prima di andarsene ora nonostante durante la visione stessi odiando questa scena perché sembrava davvero che tutta l'evoluzione fatta da Jaime tutto il suo percorso fin dalla seconda stagione fosse andato perduto poi ragionando assieme a un'amica siamo giunti alla conclusione che molto probabilmente Jaime in quel momento ha preso una posizione e non è quella che sembra vista in questa scena decidendo di andare a sud molto probabilmente non per unirsi a Sars come ha detto lui bensì per cercare di risolvere la situazione in prima persona e ha rifiutato Brienne dicendogli tutte quelle cose terribili solamente per non farsi seguire da lei perché nella sua testa sta andando verso una missione senza via di ritorno amici spero che la recensione vi sia piaciuta mi scuso ancora terribilmente per il ritardo ma davvero non sto avendo tempo di fare nulla come sempre se non siete ancora iscritti vi invito ad iscrivervi al canale attivare la campanellina e seguirmi sui social per non perdervi nessun nuovo video vi ricordo la collaborazione con Pampling quindi se andate nel loro sito e utilizzate il codice d'Oragon potrete avere il 15% di sconto sui vostri acquisti come sempre io sono d'Oragon e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 ciao